Buonasera, dialoghiamo di Donald Trump, un personaggio certamente controverso, divisivo nella cultura politica americana e non solo. Certo, per qualcuno Trump è colui il quale, a parte del mondo americano, non poca parte, è colui il quale ha portato di nuovo l'America a essere di nuovo grande, evitando, arginando una certa cultura liberal, una certa cultura woke, che avrebbe fatto degenerare il mondo americano, così nello stile, nei costumi, nella vita quotidiana, nei rapporti tra i generi, nei rapporti anche etnici, ma soprattutto anche cultura liberal, liberal americana, i democratici americani che avrebbero inserito elementi di socialismo addirittura nel modello americano, portando al crollo completo dell'economia, della società e della società americana, ma poi anche è appunto il campione, quello il quale farà tornare l'America grande, è campione di un certo sovranismo, cioè dalla possibilità per gli americani di tornare a essere i protagonisti del loro destino, come qualcuno dice in Italia, padroni in casa propria, rispetto a effetti negativi della globalizzazione, perché certamente la globalizzazione insieme a quello che è stata la crisi del 2008 ha portato una serie di ceti americani, si dice in modo particolare la classe medio-medio piccola, quei gruppi di bianchi non laureati che hanno visto perdere il posto di lavoro dopo la crisi del 2008, che avrebbe riportato quelle sicurezze, quei posti di lavoro, quel tenore di vita che questi ceti sentivano persi in questi anni di crisi, in questi anni di difficoltà, schiacciati da una globalizzazione che sembrava più forte di loro, certamente negli stati magari non centrali o periferici degli Stati Uniti d'America, forse l'inque Trump è forte, penso certamente, non lo so, stati come Michigan, Arizona, forse il Nevada, insomma ci sono stati dove la presenza di Trump e quello che Trump anche culturalmente vuole dire, un ritorno ai valori forti, ai vecchi valori dell'America, in quell'America profonda, che la globalizzazione da una parte e quella cultura libera, senza principi, senza veri legami con le tradizioni, così possono portare che possono invece, che l'avrebbero fatto degenerare, invece Trump come l'argine di questo tipo di, naturalmente come l'argine per il recupero della grandezza americana, della forza degli Stati Uniti d'America quella, e sì, è vero anche che peraltro invece Trump rappresenta quell'elemento di degenerazione della politica americana, la manifestazione di quella crisi culturale che sta investendo anche l'America e non solo la società, così a metà, negli anni 2000, insomma, infatti si è parlato di populismo, si è parlato di un personaggio che confonde il vero con il falso, usa gli strumenti social in modo spregiudicato, tende sempre ad avere questo approccio aggressivo, imposta sempre nel corso in termini di crociata, sei con me o sei contro di me, tutto è malissimo, tutto è positivo o negativo, insomma ecco così, è sempre questo scontro frontale, insomma ecco così, è certamente uno che non ha dato l'idea di non rispettare le regole, le procedure, che in genere anche nella politica americana tendenzialmente c'erano, insomma, fuori dalle righe, fuori da un certo tipo di procedura, insomma un personaggio certamente molto complesso, ma che un po' esprime però per certi versi i propri tempi, forse certe delusioni che sono venute anche dopo la presidenza Obama e soprattutto dopo in questi anni di crisi, di crisi economica, finanziaria e di globalizzazione. Nel 2016 Trump ha battuto a sorpresa la sfidante democratica Hillary Clinton, che credo sia stata vista da una parte dell'elettorato americana come rappresentante di quelle establishment, di quelle posizioni di potere, di quei privilegiati, magari democratici, appunto democratici, che hanno avuto poi la fortuna e il privilegio di studiare e poi di occupare delle posizioni di potere, perdendo il contatto con la società vera, con le persone che devono affrontare la vita giorno per giorno con i suoi veri problemi. Penso sia stato un po' questo anche un tema che ha consentito a Trump di prevalere sulla Hillary Clinton e di presentarsi a certi ceti, ceti medio-bassi, timorosi, preoccupati dello sviluppo della società in quel periodo. Le posizioni politiche di Trump sono state però descritte, ovviamente, anche con degli elementi molto negativi su vari atteggiamenti. Si è parlato di populismo, che è tipico, si dice, di questi anni. Poi certamente un atteggiamento protezionistico, difendere l'industria americana e riportare i posti di lavoro, riportare le produzioni industriali in America, dopo magari che hanno state portate via, in Cina o da altre parti. E per fare questo naturalmente un isolazionismo, anche in termini di impegno militare e politico verso solo i territori americani. L'America, gli americani, come diceva un vecchio detto. Poi si è parlato certamente anche di nazionalismo, tornare a essere grandi, a essere forti. Certo, un nazionalismo che dietro ha anche elementi di egoismo, ma certo per tornare a essere grandi, naturalmente, bisogna anche affrontare la realtà per quello che è. Sembrava una volta dire Trump e così. E poi sono riemerse temi discriminatori, per non dire razziali, dentro così, dentro la politica di Trump, dentro l'America di quegli anni. Certo, durante la campagna elettorale e la sua presidenza, Trump ha fatto anche uso dei social per diffondere notizie, uso nuovo, uso molto aggressivo, molto forte, molto diretto, per diffondere notizie non sempre che non si sono sempre dimostrate vere o basate su delle fonti. E poi le famose teorie cospirazioniste contro l'America, contro quella parte di America sana, quella che lavora, quella magari degli stati più periferici, che è attaccata e deve naturalmente difendersi. Lui è il campione di quest'America, per così dire svantaggiata, tra virgolette, naturalmente. Certo, non c'è dubbio che ha raccolto consensi, di certi colpiti dalla globalizzazione, abbiamo detto prima, in certi stati americani, persone che non si sentono rappresentate più dalla vecchia politica o dalla politica democratica o una politica che sentono lontana dai loro problemi quotidiani. Questo è un tema che c'è, è un tema molto importante, molto importante, ma in politica estera e migratoria Trump ha assunto la tipica posizione, così, di conservatrice, la posizione isolazionista. Si è imposto il divieto di accesso negli Stati Uniti ai cittadini provenienti da paesi a perdonanza musulmana, di temi anche un po' razziali, per così dire, promuovendo il rafforzamento del muro di confine nel Messico e tra Messico e Stati Uniti nel 2019. Poi è stato convolto anche i scandali, un denominato Ukrainegate e poi l'anno successivo si dice che abbia affrontato in modo non adeguato, sottovalutando nei rischi anche la pandemia di Covid-19. Si dice che questo sia stato un uno dei temi più critici che lo abbia molto danneggiato poi nella sua vettura campagna elettorale. Ricandidandosi all'elezione del 2020 viene sconfitto dal liberale democratico Joe Biden, ma si è rifiutato di riconoscere l'esito delle votazioni, annunciando ricorsi legali per presunti brogli che sono stati respinti. E anche qui un personaggio che esce dalle righe, dalle procedure che generalmente ci sono nella politica americana, perché poi nel mondo americano generalmente sui contenuti ci si divide, ma sulle procedure, sulle istituzioni si manteneva generalmente un certo accordo. Ecco qui Biden abbiamo detto che è fuori da rompe i legami, gli argini di certi tipi di limiti che generalmente comunque nella politica americana c'erano. Infatti poi nel 6 gennaio 2021, per il suo incitamento, si dice per il suo incitamento, i manifestanti hanno saltato il Campidoglio, credo fatto abbastanza unico nel suo genere. Nel dicembre 2022 la commissione d'inchiesta sui fatti di Capitol Hill per questo assalto ha raccomandato di perseguire penalmente Trump con l'accusa di aver cospirato contro i 6 uniti d'America e aver incitato un'insurrezione, una cosa veramente particolare nella storia politica americana. Non so quali possono essere i precedenti, che di questo tipo credo siano veramente unici. Nel novembre del 2022 poi si è candidato per le elezioni presidenziali del 2024, solo che sono continuati i problemi per Trump, perché ad esempio nel 2023 un gran giurì di Manhattan lo ha incriminato per 34 capi d'accusa, per falsificazione di documenti aziendali e non ha avuto solo questi problemi. E anche questo è un po' una novità, che ci sia una candidatura con questi problemi, con questi capi d'accusa, con queste incriminazioni, perché questo naturalmente rappresenta una novità, ma abbiamo detto che Trump è fuori da un certo schema o da quello che è un modello tradizionale di politica americana. E Trump è fuori anche perché anche la sua storia è particolare e diversa da altri politici, perché Trump è un imprenditore finanziario americano, prima di tutto che è diventato ricco, che ha avuto certi risultati economici e si è imposta sorpresa prima nelle primarie del partito repubblicano, di cui qualcuno dice non era amato da tutto il gruppo dirigente repubblicano, proprio per questo suo essere un po' fuori dalle righe. E poi nelle elezioni è bella meglio sulla candidatura del partito democratico Hillary Clinton. Certo la campagna elettorale di Trump con lo slogan «Facciamo di nuovo grande l'America» ebbe successo, colpì così la fantasia, l'immaginazione probabilmente di molti, soprattutto di quei cittadini che si sentivano svantaggiati in quel periodo storico, e ha dato una chiave, una svolta in chiave conservatrice, isolazionista agli Stati Uniti d'America. E' iniziato subito poi dopo ad abbandonare una serie di linee che caratterizzavano la politica democratica, la politica di Obama che l'avevano preceduto. Tanto l'impegno ambientalista fu abbandonato, sappiamo che nel mondo conservatore una certa parte del partito repubblicano il tema ambientale non è considerato una vera emergenza, poi fu anche abbandonata la politica distensiva nei confronti di Cuba, continuando a riprendere quell'azione frontale di scontro con Cuba. La vittoria di Trump può essere vista come conseguenza comunque di un lungo periodo di crisi. C'è una certa riflessione in questo senso che viene anche da una certa storiografia, cioè si parla dell'effetto di una crisi prolungata che viene dal 2008, cioè da quel momento una parte della società americana non era più riuscita a tornare a livello di vita soddisfacente e concepiva e cominciava a percepire e concepiva la globalizzazione non più come un'opportunità ma come una minaccia. Ed è questo il caso di tanti lavoratori americani di quelle classi medio-medio-basse, ora disoccupati, vittime dei processi di delocalizzazione produttiva, magari verso la Cina o altri paesi stranieri. E Trump permetteva a loro politiche di difesa, di protezionismo, di isolazionismo dell'economia nazionale, nel segno poi naturalmente del sovranismo, vale a dire un recupero di quel potere di intervento dello Stato rispetto alle dinamiche della globalizzazione. Cioè l'idea che era possibile governare quei processi e riportare il benessere, governare, bloccare quei processi, i processi di delocalizzazione e riportare la produzione in America. In politica estera Trump si è disimpegnato dei teatri di crisi, rinunciando al ruolo di arbitro dei conflitti internazionali che Washington aveva assunto negli anni 90. Qui c'è un tema che viene dal mondo repubblicano, un certo mondo conservatore, l'America, gli americani, l'America si occupi solo dei propri interessi, non vada oltre. Erano generalmente stati democratici a occuparsi di un impegno anche internazionale. Poi dopo lo era stato anche Bush. Vediamo che i risultati negativi diciamo, anche se sia pure con la specificità di quello che aveva fatto Bush, parlo del Bush figlio naturalmente. Tuttavia non sono rimasti elementi di conflitto, intanto si è riacceso con la realizzazione dei test missilistici che ci sono stati, il contrasto con il regime nordcoreano di Kim Yangon, ma soprattutto con lo scontro in modo particolare poi sarà con il nemico storico degli Stati Uniti, l'Iran, quello che apparteneva agli stati canaglia, così a quelli tra virgolette impero del male, parlava poi anche Bush. Ecco, verso l'Iran Trump sconfessò l'accordo che era stato stipulato da Barack Obama e dalla UE sul programma atomico iraniano e gli USA poi per l'imposto nuove sanzioni all'Iran minacciando di applicarle anche chi avesse continuato a commerciare con il paese medio orientale. La presidenza di Trump sino alla crisi sanitaria del Covid-19 fece comunque registrare dati economici confortanti, positivi. Il tasso di disoccupazione fu poco superiore al 4% e anche il tasso di inflazione è intorno al 2%, insomma, non altissimo, insomma, e non alto, e anche ricavi record sui mercati finanziari. Certamente era un contesto anche internazionale di ripresa dell'economia, ma i dati economici non furono negativi. Certo, dietro questi indicatori eccellenti, molto buoni, ci saranno anche dati meno incoraggianti, la disparità sociale in aumento e la ricchezza sempre più concentrata nelle mani di pochi. Ma poi forse un elemento che sarà un elemento un po' complesso così nella realtà americana sono che gli ultimi anni di Trump hanno visto salire la conflittualità sociale negli Stati Uniti, a scatenarla e sono stati soprattutto il periodico verificarsi di episodi di abusi di potere da parte della pulizia su cittadini afroamericani. In diversi casi conclusi con la morte di questi ultimi che ha provocato l'esplosione di sommosse di veri e veri scontri cittadini. A questo disordine poi hanno fatto da contraltare casi di intolleranza e violenza da parte dei suprematisti bianchi, naturalmente che si sono sentiti sostenuti da Trump e da questa presidenza, e altri estremisti di destra. Un ritorno di temi razziali, tema delicato nella storia americana, che certo, pensiamo che prima il Presidente degli Stati Uniti era Obama, insomma, un afroamericano, sembravano essere stati affrontati, insomma, non dico superati, ma almeno affrontati. E' così emerso con sempre maggiore chiarezza come la questione razziale negli Stati Uniti si è ancora aperta, insomma, razziale e a certi versi direi anche sociale. Ad afroamericani e espanici, non vengono garantiti gli stessi diritti che bianchi. Questo è quello che un po' emerge. Ci fu un caso veramente emblematico che colpì tantissimo anche l'opinione pubblica e non solo americana, l'omicidio di George Floyd, si vergò il 25 maggio del 2020 nella città di Minneapolis, in Esota, dove la morte seguì il suo arresto da parte di quattro agenti di polizia, intervenuti in seguito alla chiamata di un negoziante e morì in un modo che fece molta, molta impressione. Insomma, l'America rimaneva travagliata, aveva periodi di conflittualità, di disagio sociale, etnico molto forte e questo forse sarà un altro elemento di debolezza poi per lo sviluppo della politica di Trump e anche per gli Stati Uniti d'America. Mi fermo qua, vi ringrazio per avermi seguito, vi aspetto ai prossimi incontri, arrivederci.